Il mio primo palco e la nostra vittoria ancora non riesco a crederci, mi sembra un sogno. Queste le prime parole a caldo di Claudio Accoco, campionessa regionale di bodybuilding al termine della vittoriosa finale domenica scorsa a Catania. Un grande risultato per la ventenne atleta di Santa Croce Camerina che, in poco meno di un anno, è riuscita ad ottenere il prestigioso riconoscimento a livello regionale. Un primo posto, tra l'altro, che le permetterà di rappresentare la Sicilia per il team Masucci nella categoria Bichino, 1,63 m. Alle spalle, quindi, un lavoro di preparazione, ma anche di impegni e sacrifici, iniziati dopo l'estate scorsa e concluso con un primo posto che ha fatto emergere tutto il talento della ragazza di Santa Croce. Per i suoi dirigenti tratta di un risultato sbalorditivo in quanto raggiunto, con un lavoro intenso e grazie anche alla grande forza di volontà della stessa bodybuilder. Prossimo appuntamento adesso i campionati italiani che si svolgeranno a Roma il prossimo 2 luglio.